Nicola Molteni, perché la Lega Nord dice che l'ultimo provvedimento del governo Renzi sulla giustizia è un salvaladri? Siamo di fronte all'ennesima vergogna del governo Renzi, siamo di fronte all'ennesimo decreto che garantisce impunità a criminali e delinquenti. È l'ennesima depenalizzazione di reati che per la Lega sono reati gravissimi, per la sinistra sono reati di lieve entità, sono reati bagatellari. Reati come il furto, reati come la truffa, come il peculato, come l'abuso d'ufficio, come l'omissione di soccorso, come la violenza, la minaccia, la rissa, l'accattonaggio. Per noi sono reati estremamente gravi e depenalizzare questa sorta di reati vuol dire dare un colpo mortale alla sicurezza dei cittadini. Siamo di fronte al nuovo svuotacarceri, al nuovo liberi tutti, al nuovo indulto mascherato. Questa è la sinistra, la sinistra che difende gli immigrati clandestini e che difende i criminali. È un colpo gravissimo alla sicurezza dei cittadini. La Lega promette sin da oggi una battaglia durissima per impedire che questo decreto diventi realtà e possa uccidere definitivamente la sicurezza. I cittadini chiedono più sicurezza, il governo va esattamente nella direzione opposta.